Appurato che cos'è il retinolo e che cos'è il bioretinolo e perché dovremmo utilizzarlo all'interno della nostra beauty routine, quindi che cosa fanno all'interno della nostra pelle. Ora mettiamo a confronto il retinolo e il bioretinolo e soprattutto vediamo perché è più indicato una molecola piuttosto che l'altra. Il positivo del retinolo è la concentrazione, quindi si può utilizzare una bassa concentrazione come ad esempio all'interno dei prodotti di skin care come a concentrazioni più alte secondo la guida di un dermatologo. La parte del bioretinolo non ha questa opzione, quindi semplicemente si può utilizzare all'interno di prodotti di cosmesi da banco. La parte positiva però del bioretinolo è che non ha limitazioni nella tipologia di pelle e neanche di esposizione solare. Perché? Perché il retinolo va introdotto piano piano perché tende a sensibilizzare la pelle, quindi le pelli più delicate dovrebbero magari evitarlo oppure introdurlo con molta cautela all'interno della beauty routine. È una molecola che bisogna utilizzare alla sera perché alla mattina tende a essere fotosensibilizzante e anche nel caso in cui lo utilizzate nella routine della sera, al mattino mi raccomando mettete la protezione solare e donne in gravidanza o incinta dovrebbero non utilizzare questa molecola all'interno della beauty routine. Il bioretinolo non ha queste limitazioni, quindi tranquillamente lo si può utilizzare al mattino. Ovviamente io consiglio sempre di mettere la protezione solare ma proprio per limitare i danni dei raggi solari, però non è necessario utilizzare la protezione solare, quindi si può utilizzare sia nella beauty routine del mattino che nella beauty routine della sera. È una molecola che è adattissima alle pelli più delicate. Io sono molto molto delicata e la utilizzo tranquillamente ed è una molecola che non ha limitazione di stagione, quindi non è una molecola che bisogna magari limitare durante il periodo estivo o nell'esposizione solare. Queste sono le sostanziali differenze nella parte positiva e negativa. Positiva entrambe stimola il collagene, la parte side effect, bisogna capire che tipo di pelle si ha e quali sono le necessità. Vedremo poi in un video più specifico che tipi di alternative anche al retinolo, un po' più concentrate, esistono sul mercato.